Allora, signore, listen to the rhythm. Babali da, dida da da, ddli ba, ddli ba, dida da da. Questo ritmo ci aiuterà a fare tutto in velocità. Io passo di qua. Io mi sposto di là. E in un balto d'occhio tutto pronto sarà. Non c'è tempo per bollire le patate e farle a fette. Cospargendole di cener si parranno le crocchette. Prendi quelli, scendi letto, passeranno per tovagliette. E quei ferri lì nel patio fungeranno da forchette. Tutto deve essere perfetto. Tu vai a recuperare le carote nell'armadio che staranno lì a giocare. Con il sale. Con il sale. Tu, farfuglia, può creare bei piattini di cristallo per il grande sale finale. Uova! Uova! Burro! 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 Grazie a tutti.